Nome, Iuri, cognome, Cardone, età, 27 anni, titolo di studio, laurea di primo livello in sociologia, esperienze professionali, ho lavorato presso la Temporary SPA di Pescara, un'agenzia interinale, per circa 9 mesi. In seguito ho lavorato presso la provincia di Pescara, come ha detto stampa collaboratore tirocinante, ho lavorato presso McDonald's di San Giovanni Tiatino. Attitudini personali Mi piace molto lavorare in team, sono una persona determinata, puntuale, seria, cerco sempre di impegnarmi al massimo per raggiungere i miei obiettivi, naturalmente cerco di farlo nel migliore dei modi, ogni giorno cerco di migliorarmi. Sono una persona comunque aperta delle relazioni sociali, mi piace lavorare anche autonomamente, penso ad avere le capacità per confrontarmi ogni giorno anche con i miei colleghi nell'ambito lavorativo. Che lavoro cerchi? Mi piacerebbe continuare sempre nel mondo delle risorse umane, quindi l'ambito risorse umane per quanto riguarda amministrazione, reclutamento di risorse umane, quello diciamo rimane il mio primo obiettivo. Mi piacerebbe continuare a lavorare anche nell'ambito amministrativo, impiegatizio all'interno di una qualsiasi azienda. Perché un'azienda dovrebbe scegliere te? Penso di essere una persona determinata, caparbia e capace di mettersi in gioco quotidianamente. Cercherei sempre di migliorarmi e naturalmente di dare il massimo di me stesso sul posto di lavoro. Ovviamente per quanto riguarda le competenze, ne posseggo alcune naturalmente, soprattutto riguardanti il mio ambito professionale, ma sarei sempre pronto a mettermi in gioco per acquisirne di nuove. Quindi cercare di ampliare anche le mie capacità professionali, in modo tale da essere sempre più pronto alle esigenze dell'azienda in quel momento.